Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. In questo semplice video vedremo la somma di un'aritmetica digitale. Sappiamo che per quanto riguarda l'aritmetica digitale abbiamo solo due valori, quelli booleani 0 e 1. Quindi la domanda è, ma quanto fa 1 più 1 secondo l'aritmetica digitale? E se fossero 3, 1? E se fossero 4, 1? Nel sistema binario ci esorge un dubbio. Bene, oltre a vedere come fare la somma di più valori, di due o tre addendi nel sistema digitale, vedremo anche un piccolo esempio con Excel di come convertire un numero decimale in binario. Ma passiamo avanti. Vediamo allora la somma binaria. Come sommare 1 più 1? considerando che il sistema binario non prevede altri semplici numerici oltre al simbolo 1. Certo che l'algebra di Boole e l'aritmetica binaria è una cosa strana. C'ha solo lo 0 e l'1. E continua così. Il nostro famoso scienziato George Boole probabilmente a scuola non andava oltre l'1, forse abitava vicino ad un casello ferroviario, quindi vedeva sempre binario e dice che faccio, ma mi invento l'algebra binaria. Salto da un casello all'A, salto da un binario all'altro sperando che un treno non mi prenda sotto e nel frattempo ha studiato come utilizzare 0 e 1 per avere un'aritmetica ed un'algebra binaria. Ma vediamo come fare questo. sappiamo che 0 più 0 da 0 questo ci arrivavo anche senza Boole 0 più 1 da 1 1 più 0 ovviamente se 0 più 1 da 1 anche all'inverso 1 più 0 da 1 ma 1 più 1 questa è la cosa strana. Possiamo dire che 1 più 0 da 0 col riporto di 1 ma per quale motivo? Allora vediamo. Il sistema dicimale 1 più 1 è difficile da dirlo, eh? è 2 ha una sola cifra. Nel sistema binario lo stesso valore è rappresentato da due cifre il 2 in binario è 1 e 0 da questo traiamo una regola di base per la somma di qualsiasi numero di bit mettiamola in colonna e interpretando la somma di 1 più 1 il valore deve dare 10 deve dare 0 e 1 quindi 1 più 1 da 0 termine con il resto di 1 che da 1 quindi mettiamo le cifre in colonna e possiamo dire e vedere che 1 più 1 da 0 col riporto di 1 eccolo qua quindi non è più un mistero 1 più 1 vale 0 col riporto di 1 e come 9 più 1 9 più 1 da 10 da 0 col riporto di 1 adesso vediamo l'altro esempio per seguire eseguire la somma di due numeri binari si devono sommare come i numeri decimali le cifre bit a bit tenendo conto del riporto vediamo qui un esempio un decimale 9 più 13 da 22 il 9 in binario è rappresentato da queste cifre 1, 0, 0 1, 0, 0, 1 perché questo è 2 alla 0 che è 1 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 8 2 alla 1 2 alla 0 da 1 8 e 1, 9 questa invece è la rappresentazione del numero 13 binario quindi eseguiamo con la regola che abbiamo visto prima 1 più 1 da 0 col riporto di 1 e lo riporto qui 1, 0, 0 mi da 1 0, 0, 1 mi da 1 riporto 0 1 più 1 abbiamo detto che è 0 col riporto di 1 eccolo qua e così ho il mio risultato vediamo quest'altro esempio 25 e 18 questo è il valore della rappresentazione binaria del numero 25 e questa è la rappresentazione binaria del 18 seguendo le stesse regole 1, 0 da 1 0, 1 da 1 0, 0 pareggio a casalingo 0 1, 0 ecco una vittoria in casa 1, 0 ovviamente da 1 1 più 1 1 è 1 da 0 col riporto di 1 è questo qua abbiamo visto quindi con 2 1 più 1 se invece dobbiamo sommare 1 più 1 più 1 in binario nel sistema ritorniamo alla tecnica di prima in decimale 1 più 1 più 1 da 3 questo 3 come viene rappresentato in binario è rappresentato da 1 e 1 quindi 1 più 1 più 1 in binario vale 1 col riporto di 1 eccolo qua 1, 1, 1 col riporto di 1 facciamo questo esempio questo è il valore 124 in binario questo è 312 in modalità casellante 0, 0, 0, 0 1 più 0, 1 1 più 1 0 col riporto di 1 ed eccoci qua 1, 2, 3 volte 1 abbiamo detto che è 1 col riporto di 1 e me lo riporto qui 1 più 1 più 1 ancora 1 col riporto di 1 1 più 1 abbiamo visto la pagina precedente è 0 col riporto di 1 1 è 0 da 1 questo qui c'era prima quindi questo è il metodo per sommare 3 numeri binari ma è sempre più difficile come sommare 4 1 in binario abbiamo capito che la tecnica è sempre la stessa un decimale 1 più 1 più 1 da 4 come si rappresenta il valore decimale il 4 si rappresenta con il valore 1, 0, 0 quindi 1 più 1 più 1 più 1 in binario è 0 con il resto 10 1, 0 resto 10 il problema è dove vado a metterlo questo 10? eccolo qua un esempio abbiamo tre valori 26, 15 e 27 questi sono i corrispondenti valori rappresentati in binario allora 0, 1, 1 mi da 0 col riporto di 1 1, 1, 1, 1 abbiamo detto che deve dare 0 col riporto di 10 dove lo vado a mettere al 10? lo scrivo così 10 1 su questo e 1 sull'altra colonna 0, 0, 1, 0 mi da 1 1, 1, 1, 1 abbiamo detto che da 0 col riporto di 10 e me lo trovo qui quindi 0, 1, 0, 1 cioè 1 e 1 che da 0 col riporto di 1 e lo vado a mettere sopra l'altro 1 in modo che qui mi trovo 1 più 1 che mi da 0 col riporto di 1 ed eccolo qua abbiamo l'ultimo esempio di questo binario abbiamo l'11 il 7 e il 14 bisogna di continuare un po' a colorarlo perché mi ero scocciato del bianco queste sono le rappresentazioni dei valori in binario e quindi mi trovo 1 più 1 più 0 da 0 con riporto di 1 qui mi trovo 4, 1 quindi 0 col riporto di 10 su questa colonna 0, 0, 1, 1 c'ho 2, 1 quindi 0 col riporto di 1 che me lo trovo qua e qua mi trovo i miei 4, 1 1, 1, 1, 1 che sono 0 col riporto di 10 per cui 0 più 1 niente 0, 1 più niente 1 come si fa come si fa con 5 e ve lo lascio fare adesso che avete capito come funziona il trucco quindi passiamo adesso a Excel velocemente per vedere come convertire un numero decimale in binario quindi farlo sommare eccomi in Excel ho un po' allargato l'altezza e la larghezza nel formato delle celle per fare in modo che si possa vedere meglio per quanto riguarda prima se i numeri sono 5 1, 1, 1 3 volte 5 3 volte 1 il valore decimale è 5 il 5 in binario si rappresenta 1, 0, 1 quindi la somma di 3, 5 è 1 con il resto di 10 e così via per il 6 per il 7 e tutti quanti ma adesso vogliamo vedere la conversione da decimale a binario in se io vado a scrivere in decimale qua ad esempio 25 qua vado a scrivere 33 e qua 115 va bene adesso allarghiamo un po' il carattere facciamo docile ho i miei numeri decimali qui voglio i miei valori in binario cosa devo fare vado su funzioni vado a cercare decimale binario se non lo trovate andate qui e scrivete dec e poi vai e va a trovare lui decimale decimale binario ok vedete possiamo fare anche la trasformazione in ottale in esadecimale adesso mi chiede quale numero ovviamente quello di questa cella ok ecco il mio valore adesso vado a copiare e incollare vado ad allargare perché forse ci siamo ci siamo così mettiamo in centro qui faccio la mia somma uguale somma di queste tre celle e il valore di questo copiando è questo qui ci fidiamo che questo valore è il 173 in binario quindi questo qua è il mio cedno è il mio decimale e questo è il mio binario la stazione e il casello non lo so ma siamo sicuri che ci sarà un casello e ci sarà una stazione bene vi ringrazio per la visione del video spero che sia stato di vostro gradimento che sia stato interessante se lo è stato mettete un like iscrivetevi al mio canale oltre ovviamente a queste cosette qua ci sono cose molto interessanti come programmazione PLC schede schede Arduino con schede Arduino in simbiosi per così dire in collegamento con l'abio e molto molto altro arrivederci e al prossimo video